Non ha neanche bisogno di presentazioni perché credo che lo conosciate tutti. Lui è Igor Sibaldi, scrittore, eseggeta biblico e esperto di psicologia del profondo. Oggi vi è eccezionale qui per proporci un intervento dal titolo Il teatro della mente, sistemi di rappresentazione dell'aldilà e dell'aldiquà. Facciamo un applauso, benvenuto Igor Sibaldi. Mettiamola così. Mettiamo che c'è Luisa, che è un personaggio immaginario ma neanche tanto. Partiamo dal presupposto che qua nessuno conosce Luisa come condizione. Così non so, quella è lei, quella è... Luisa. Dunque, Luisa, ultimamente le cose non gli vanno tanto bene a Luisa, perché le sue due storie d'amore, parallele, stanno cominciando a stressarla. Non si sente autentica in nessuna delle due. Ha 38 anni e le sembra di non aver combinato ancora granché nella vita. Vedete che nessuno conosce Luisa, no? Le sembra di non aver combinato ancora granché nella vita. E poi ci sono alcuni fenomeni che si stanno producendo nel suo passaggio dalla pre-adolescenza all'adolescenza, dato che sapete che l'età umana si è allungata moltissimo, per cui io personalmente sono uscito da due o tre anni dall'adolescenza. Ai tempi miei, quando io andavo, quando io facevo il liceo come lui, a 52 anni si andava in pensione. Se guardate i caroselli, quando c'è quello di 40 anni, che è pelato con la pancia, col fiatone, a 40 anni. Attualmente negli anni 30, a 38 anni era l'anziano, a 38 anni. Attualmente ci sono questi 92 anni che sfrecciano in bicicletta, che non muoiono mai, che sono tremendi. Quindi ho tutto il diritto di dire che la Luisa sta uscendo a 38 anni dalla pubertà e sta entrando nell'adolescenza. E sono cambiate le cose. È un problema perché uno non si aspetta di vivere così a lungo. Uno pensa, vabbè, fino a 70 poi è tutto regalato. E fino a 70 poi ce ne sono altri 60 dopo, perché l'età media è 130. Se ne è anche a metà 60. Comunque, la Luisa, dicevo, in questa sua fase delicata, giovanile, adolescenziale, sta cominciando anche a fare dei sogni brutti. Per esempio, l'altra notte ha sognato che sua madre moriva maledicendola. E il fatto peggiore era che nel sogno la Luisa stava strangolando la madre. Luisa è del tutto ignota qui. La Luisa è giù. Poi a un certo punto la Luisa conosce degli esperti di al di là. E di conseguenza anche di al di qua. Perché se non sai cos'è l'al di qua, non puoi sapere cos'è l'al di là. Non ti trovi, no? Magari pensi che sia una cosa al di là e invece al di qua. devi prima conoscere bene l'al di qua e poi arrivi nell'al di là. Quindi quelli che si occupano di questa cosa la sanno lunga, giusto? Più di uno che fa il fisico nucleare, per esempio, che si occupa solo dell'al di qua. e la Luisa trova un'al di là dista, un'al di là dista specializzato, parliamo, in Padre Pio, e lei ascolta questa tecnica di scoperta, di connessione con Padre Pio. Come sapete appare a volte Padre Pio, preceduto da profumi, lei impara come si fa. e immagina tutta una serie di discussioni con padre Pio oppure magari trova me che le parlo dei maestri invisibili e lei si immagina i maestri invisibili e tutto che ci va a parlare cioè non trova me, trova un mio amico che le spiega i maestri invisibili, perché io spiego in un altro modo oppure non so, non le capita a nessuno di indiano perché se capitasse qualcuno di indiano lei non seguirebbe all'inizio, ci metterebbe uno o due anni per capire cosa sta dicendo anche se parla in italiano e l'Eluisa dopo aver fatto queste aver sperimentato queste tecniche di al di là riceve delle consolazioni e dei conforti e il suo stato d'animo migliora rapidamente fa ancora quei sogni lì di sua madre ma non se li ricorda quindi va tutto bene pensa che pensa positivo e poi ultimamente anche ha incontrato una persona un esperto di cose carmiche che le ha detto che lei è la reincarnazione non di Maddalena come lei aveva sempre pensato di Maria Maddalena ma di Caterina di Russia per cui la Luisa si sente a posto Caterina di Russia ha strangolato il marito lei ha solo sognato di strangolare la mamma per cui in fin dei conti è già un progresso rispetto alla volta scorsa imperatrice del toro tanti amanti e tutto un tratto cambia tutto ecco questo è un modo e questo è uno dei vari modi che ci sono stati in questi periodi diciamo da quando da non tanto dall'ottocento ecco dall'ottocento a oggi uno dei vari modi per europei strettamente europei questi all'estero non li trovate questi qua strettamente europei per immaginare l'aldilà alla base questi modi sono possibili da una carenza della religione principale dell'Europa cioè il cristianesimo che in tutte le sue varie confessioni protestantesimo cattolicesimo e tutti gli altri ha sempre lasciato nel vago la parte paradiso per cui è il premio di tutto no? l'inferno sapete è un po' imbarazzante parlarne perché pensare a un Dio ultra buono che passa tutto quel tempo a organizzare quei tipi di tormenti che durano all'infinito già ti abbassa un po' l'immagine di Dio cioè questo nel tempo libero organizzava le colate di pece i serpenti che ti mangiano è un aspetto cupo per cui gli dice beh sono leggende però la parte bella l'altilà super a parte Dante che è molto chiaro al riguardo ma nel cristianesimo non se ne parla tanto sembra un po' un appendice per esempio non si capisce nel di là cosa si fa in paradiso lavorare no anche dalla pubblicità del caffè non risultava che lavorassero domenica non c'è uno come si rimmagina si rimmagina con i mezzi che hai dalla teologia e dalla regione popolare tu ti immagini il paradiso come delle gradinate su cui si parla con preti suore perché quelle entrano tranquillamente e si aspetta che passi qualcuno della famiglia ogni tanto passa lui ogni tanto passa il ragazzo ogni tanto la mamma e lì bisogna festeggiare dopodiché si aspetta è troppo poco il paradiso è vaghissimo vaghissimo questo lascia sguarnita tutta una parte che prima che si chiamasse spiritualità si chiamava metafisica il termine giusto sarebbe metafisica però metafisica sembra impegnativo non è commerciale per cui stende a dire spiritualità o al di là che è più confidenziale però è metafisica allora con questo occidente nostro sguarnito con la metafisica non è che noi siamo attualmente parlando di al di là e di qua a una fase ancora preistorica siamo in una fase un po' peggiore perché nella preistoria della nostra cultura cioè nel medioevo nell'epoca classica prima dell'epoca classica dagli egiziani e così via e la sapevano più lunga di noi non ce n'è da fare ne sapevano di più erano meno europei erano meno tridimensionali di noi e vedevano le cose in un altro modo questo altro modo è utile sapere che c'è è molto utile per evitare cioè per accorgersi di una caratteristica del linguaggio con cui di solito si parla dell'aldilà alcuni dimenticano sentendo parlare dell'aldilà che si tratta di un linguaggio simbolico simbolico cosa vuol dire che non sta dicendo le cose come stanno qualsiasi cosa dice sta contando sulla tua perspicacia ti fa vedere non tutto il pennarello ma solo il cappuccio e il pennarello devi arrivarci tu tanti se lo dimenticano e adesso vi faccio vedere alcune di queste situazioni che dall'aldilà si ribaltano sull'aldiquà perché i due sono complementari e quello che cambia in un aldilà cambia anche in un aldiquà si vede anche linguisticamente pensate per esempio per dire spirito santo in inglese si dice the holy ghost ghost in inglese vuol dire solo spettro fantasma di morto the holy ghost e per dire in francese le sont esprit esprit in francese vuol dire brillantezza intelligenza intuizione saper parlare bene pensate che differenza tra l'aldilà inglese e l'aldilà francese e di conseguenza anche tra l'aldiquà inglese e l'aldiquà francese e che differenza rispetto per esempio all'aldilà latino o greco o ebraico in cui spirito è l'equivalente della parola vento vento quindi è tutto un altro mondo quindi quello che si scopre e che si impara come scoprire riguardo all'aldilà non può non rimbalzare sul tuo concetto di l'aldiquà e in modo antico interrotto dalla cultura occidentale e vi ripeto è un'interruzione cioè a un certo punto gli europei hanno iniziato a parlare di queste cose verso l'ottocento e hanno fatto sto gran casino scambiando per non simbolico un dicolo simbolico e immaginandosi l'aldilà come una specie di altro al di qua l'unico vantaggio che se ne trae è quello che ho descritto per Luisa un vantaggio consolatorio nel senso gente che ha bisogno psicologicamente di ricevere conforto può accontentarsi di questa immagine manca però il vero autentico vantaggio di qualsiasi discorso che è il vantaggio conoscitivo purtroppo quanto più sei consolato tanto meno conosci perché ti accontenti troppo in fretta e quanto più ti accontenti di quello che conosci tanto più alla fine la consolazione è fragile perché si basa soltanto su un tuo sforzo di volontà di crederci invece se cominci a conoscere se cominci a conoscere quella che si chiama metafisica e orientartici la conoscenza ti sviluppa quelle che adesso si chiamerebbero sinapsi tutta una serie di orizzonti ti allarga l'orizzonte più allarghi l'orizzonte là più allarghi l'orizzonte qua torniamo alla Luisa allora la Luisa adesso è appena uscita dalla sua pubertà l'età media la Luisa ha 38 anni per cui l'età media della generazione della Luisa sarà sui 135 140 dato come vanno le cose adesso supponendo anche che ci sia un po' di nanotecnologia per cui se lei ha un problema al fegato gli mettono un robottino dentro per cui non c'è più queste cose sono cose che sapete all'ordine del giorno c'è anche una scuola filosofica in America che se ne occupa che parte dal presupposto che a 300 anni l'età media sarà 400 anni e non è escludibile il problema tu non puoi continuare per 400 anni a vedere affari tuoi alla televisione perché sarebbe terribile è chiaro che tra i primi che arrivano a 400 anni quelli che ci arrivano di sicuro ci saranno alcuni statisti italiani per cui per tutta la vita te lo vedi lì quello che si vedeva prima e darebbe fastidio allora come cambia la morale come cambia l'intelligenza come cambia se la vita umana si allunga comunque arrivati verso i 135 anni la Luisa a un certo punto avrà quel caratteristico malore che conduce al decesso no? vi ho spiegato a scuola come si muore e vi hanno detto penso perché in seconda di solito lo spiegano non ho spiegato non c'eravate quel giorno? ecco quando si muore è così a un certo punto tu ti trovi fuori no? e c'è il corpo lì e tu non sei più nel corpo e all'inizio non è male non è male perché ti sposti un pochino senza muovere i passi tu esci dal muro magari sei al quinto piano esci dal muro e non cadi e pensa che figata poi rientra con una testatina arrivi fino in soffitta e con una spintina di piedi arrivi fino in cantina e poi ritorni al posto i primi 40 minuti sono divertentissimi pare poi dici vabbè adesso mi sono stufato rientriamo però non si capisce dove rientrare dalla bocca no perché dal naso no dalle orecchie no il resto lasciamo stare e capisci che non si può più rientrare e allora c'è un certo sgomento lo sgomento è triste perché all'inizio tu di qui non ti vedono più e là non conosci ancora nessuno è chiaro che tre giorni dopo vai al funerale così tanto non sai cosa fare quel giorno lì per cui non sai ancora cosa fare almeno per vedere se c'è qualcuno che ride in fondo tipo eh no dopo quando tutti vanno a casa veramente comincia una profonda solitudine fino a che qualcuno ti fa ehi no dici a me e da lì basta perché da lì naturalmente sono ipotesi non è che io ci sono stato sono ipotesi ma sono ipotesi di carattere filosofico cioè hanno uno scopo da lì ci si accorge che c'è una visione diversa se tu vedi il mondo attraverso gli occhi incastrati in un cranio o se il cranio non c'è più se tu cominci a vedere fuori dal tuo campo visivo di 120 gradi che è questo provi a immaginare un campo visivo anche solo di 200 gradi come cambiano di colpo le cose come riesci a immaginare un campo visivo di 360 gradi non penso che sia possibile però se puoi riuscire nessuno ti può aiutare perché non c'è nessuna informazione al riguardo immaginare di non avere la nuca di non avere il dietro ma perché stare su un campo orizzontale è molto probabile che una volta usciti dall'aldiquà che è anche il corpo una persona abbia un campo visivo sferico cioè che non ci sia più né alto né basso né destra né sinistra a questo punto le cose ti accorgi che tutto quello che tu puoi aver imparato in Europa dalla tradizione che si occupa dall'ottocento in poi dall'aldilà capisci che sono grosse approssimazioni a chi convengono queste grosse approssimazioni una volta usciti dai limiti dell'aldiquà ti accorgi di queste potenzialità enormi sferiche se guardate l'albero della vita per esempio vedete che prevale la figura sferica perché prevale la figura sferica gli angeli stanno nella prima sefirà oppure nella seconda eccetera eccetera è un richiamo vuol dire guarda che lì è sferico guarda che lì è sferico lì si vede in tutte le direzioni e in questo modo in questo modo il pensiero di padre Pio che ti appare davanti o del paradiso in cui tu stai e vedi in avanti o di lato e stai accanto a qualcuno diventano cose che non è che non ti suscitano neanche il sorriso ti suscitano una certa agitazione dicendo non posso accontentarmi di questo se la Luisa pensa a questo nel suo stato un po' triste secondo me non ottiene consolazione ma le passano rimangono indietro le condizioni che hanno determinato la sua tristezza perché niente produce forza ed energia nella psiche umana quanto quello che si chiama il sistema della ricerca so se lo sapete c'è un sistema adesso c'è una scienza penso sarà destinata a brevissimo tempo di sviluppo che si chiama neuropsicologia che pensa che la mente sia il cervello il cervello sia la mente che non ci sia la mente e hanno questo presupposto sbagliato secondo me cioè loro dicono non è che tu hai una mente che guida il tuo cervello tu sei il cervello per cui il discorso che sto facendo adesso per un neuropsicologo non ha senso perché comunque sia per te la realtà ha un davanti un dietro una sinistra e una sinistra perché il tuo cervello ce l'ha invece io sono dell'idea dualista che ci sia una mente che usa il cervello come uno strumento e che si adatta al cervello ci si adatta ma in realtà fa molto di più questa mente diversa più grande intendete per mente quello che volete intendete conoscenza accorgersi sensibilità centro dell'io chiamiamola mente per semplicità ecco questa mente qui che c'è nella nostra dimensione al di là in modo supposto noi l'abbiamo in qualsiasi istante in realtà quando tu dormi la mente normale piccola come sai va in vacanza no? tu chiudi una serie di rapporti ti addormenti e non ti ricordi niente perché la mente era via si era spenta e si è messa in default no? pare che il corpo gradisca moltissimo nel senso appena la mente sta zitta il corpo è felice si riposa dorme guarda come sei la sera guarda come sei al mattino quando la mente è via il corpo immagina quando ti dormenti il corpo oh finalmente si è tolta dai piedi e si rilassa ecco ma non è che muori tu durante il sonno durante il sonno c'è una notevole attività grande attività di cui la mente piccola ha alcuni sporadici ricordi simbolici discontinui che si chiamano sogni di solito raffazzonati ricordati riraccontati in vario modo tu dove tu la tua mente normale dell'aldiqua non c'è lì chi c'è chi è che c'è perché questo famoso chimico uomo molto fortunato di cui probabilmente sapete si chiama Kekule ha scoperto nel sonno la molecola del benzene ma non in un sogno non ha sognato la molecola del benzene si è addormentato senza sapere cos'è la molecola del benzene si è svegliato sapendolo un'invenzione che ha cambiato il mondo la benzina è venuta fuori da lì perché Stravinsky dice quando non riesco a fare delle cose perché sono troppo sperimentale nelle mie composizioni a volte mi addormento e mi sveglio e le so fare non perché mi sono riposato perché ero riposato anche abbastanza prima Stravinsky è molto pigro ma semplicemente lì si è messa in moto qualche altra mente che non ha possibilità di essere ricordata da noi perché perché è troppo più grande Dante ne parla quando dice all'inizio il paradiso che entra in paradiso e dice lì nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire cioè lì salta fuori una dimensione di noi così profonda così alta così larga che la mente normale non riesce a ricordarsela perché è troppo grande tanto per avere un'idea di questo tipo di mente diversa non è ancora quella sferica però per farvi misurare un po' vi siete mai svegliati in parte durante un sogno cioè durante il sogno ti accorgi che stai sognando e guardi poi di solito capita che quando ti svegli e te lo riracconti mentisci perché in realtà l'impressione che hai avuto durante il sogno lucido era di seguire contemporaneamente 20 storie diverse come dire 20 spettacoli teatrali seguirli tutti contemporaneamente capirli tutti capirli tutti cosa che in realtà non puoi fare ecco quell'altra dimensione lì in cui tu durante il risveglio nel sogno lucido dai una breve occhiata quello sarebbe metafisica nel senso non al di là della materia ma al di là del modo in cui la mente nostra collegata al cervello e al cranio intende la materia quella parte lì è un al di là non è solo al di là di chissà quale confine è anche semplicemente al di là di quello di cui noi siamo abituati ad accorgerci da svegli quello è un territorio interessantissimo ecco dicevo i neuropsicologi scoprono che c'è il sistema nella ricerca in questi loro laboratori terribili ferocissimi sapete come fanno i laboratori di neuropsicologia si prende il topo i soliti più sventurati sono topi e ratti e gli si decortica una parte del cervello poi vediamo se si diverte lo stesso gli si toglie questo e si toglie quest'altro poi si mette un sondino per fargli avere le scosse fanno delle vite spaventose scosse nelle varie parti della gabbia dopamine cocaine morfine tutti i tipi questi topi naturalmente c'è un turnover di topi enorme e fra una riscoperta che fanno sono interessantissime interessantissime il principio è sbagliato il modo è orribile le scoperte che fanno sono interessanti una delle più interessanti è il sistema della ricerca allora il sistema della ricerca cosa misura? misura il grado di dopamina cioè di felicità di iperattività nell'animale che sta cominciando a cercare e si monitora il grado immaginate quanti topi ci hanno lasciato la vita per questo ecco risultato dell'analisi quando il topo e qualsiasi altro mammifero trova quello che sta cercando cibo partner sessuale libretto degli assegni che aveva perso tutte queste cose qui la sua scarica di dopamina è inferiore a quando comincia la ricerca cioè l'inizio della ricerca dà al mammifero un piacere molto più grande della fine della ricerca c'è un piccolo esempio di questo quando tu leggi un libro giallo comincia una ricerca quando hai trovato finisce cioè il bello è la ricerca l'unica spiegazione che posso trovare è del fatto che ogni tanto vedo ancora in treno gente che fa la stima enigmistica che per me è uno dei più grandi misteri del cosmo come uno possa fare queste cose per ore e niente perché attiva semplicemente il sistema della ricerca allora la Luisa triste si fa consolare da un certo dal di là molto antropomorfico davanti dietro ecco padre Pio che arriva buongiorno prete ecco io ero nella cadena di Russia si fa consolare e il risultato è così così oppure la Luisa ha questo stimolo a capire e questo la fa uscire dal tuo turbamento dal suo turbamento una rapidità talmente più grande con risultati talmente maggiori che vale molto di più la pena quest'ultimo che non quello ma significherebbe fare una filosofia dell'aldilà certo come funziona così voi sapete la caratteristica del nostro occidente lo sapete tutti perché quando non lo sapevate vi dicevano che eravate ignoranti cioè prima dei sei anni e poi la scuola Piero Angela tutto tante cose ecco ti hanno fatto capire che da noi si usa e tu non puoi sindacare questa cosa da noi si usa pensare che il mondo sia lì fuori reale che il mondo sia reale stabile uguale per tutti a differenza di tutte le altre cose che ci sono in alcuni stati quello è uguale per tutti all'interno del mondo ci sono altrettanto reali dei corpi tipo il tuo nei corpi c'è un cervello all'interno di quel cervello e da qualche altra parte c'è una cosa che si chiama io che ha una mente un io sano percepisce la realtà del mondo come gli altri un io non tanto sano vede delle cose strane o non vede delle cose importanti questo è quello che sapete tutti e questo è il nostro punto di vista attuale di occidentali vediamo altre civiltà come l'han detto questo anche in Europa però per esempio poco prima di Socrate oppure anche nel medioevo come lo si diceva si diceva così tu non puoi conoscere nessun altro mondo se non il tuo non è possibile il mondo non è la realtà sono due concetti diversi la realtà è fatta di cose la realtà è fatta di cose il mondo è fatto di fatti cioè quello che si chiama mondo non sono le cose sono il modo in cui tu conosci le cose e ogni cosa che tu conosci è determinata da un fatto la conoscenza di questa cosa l'insieme delle cose che vedi non sono le cose ma sono i fatti attraverso i quali le hai conosciute te le ricordi le hai capite te le hai descritte te le sei immaginate non arrivi alle cose mai mai perché il tuo mondo ti tiene al di qua immaginate allora la realtà fatta di cose e il mondo fatto di fatti chi è che fa i fatti del tuo mondo li fai tu il tuo mondo è solamente tuo giustamente a volte viene invitato a farti i fatti tuoi ovvero sia a accorgerti che il mondo per te è come lo vedi attualmente sarà come lo vedrai ed era come lo vedevi e non puoi conoscere nessun altro mondo all'infuori di questo a questo è chiaro fin qui realtà cose mondo fatti questo insieme di fatti è mobile a differenza delle cose cioè tu puoi cambiarli in qualsiasi momento in base a una vecchia regola antichissima c'era già un'allusione a questa sul conosci te stesso del tempio di Delfino ecco sapete cosa voleva dire quella frase lì allora conosci te stesso vuol dire se entri qui tu non sei più tu se entri qui tu non sei più tu perché c'è questa regola si chiama la regola del sei sai sei sai alcuni che hanno seguito certe mie conferenze sanno già cos'è cos'è il sei sai il sei sai è se tu sei qualcosa tu non sai che lo sei se tu sai che sei qualcosa tu non lo sei più se tu per esempio se la Luisa per esempio scopre di essere neurotica nel momento in cui dice porca miseria sono veramente neurotica in quel momento lei non è più neurotica può ritornare a esserlo dopo però in quel momento non è più se un bugiardo compulsivo a un certo punto pensa sono veramente un bugiardo sta dicendo la verità se un vile dice che pauroso che sono in quel momento è coraggioso lo ammette se uno è innamorato e dice però mi sono preso una bella cotta in quell'istante non è più innamorato poi può decidere di ritornare se gli piace l'idea può rientrare in questo ruolo ma in quell'istante le ho preso la distanza allora conosci te stesso vuol dire tu non pensare di essere te stesso più conosci te stesso e meno lo sei anche per quello che riguarda la tua percezione del mondo più ti accorgi che il tuo mondo è fatto di fatti e più sei fuori da questo mondo non è una bella esperienza all'inizio nel mondo nel mondo occidentale tu hai un io questo io è fatto di pochi elementi nome cognome professione professione ruolo familiare e storia passata il tuo io è composto di queste cose tu io lei è Luisa Franceschi professione bancaria madre e moglie con la seguente storia passata lei pensa di essere questo il suo al di là il suo al di qua è questo lei ribalta il suo al di là su un'altra dimensione in cui dice io sono Luisa Franceschi lui è padre Pio di Montalcino schiato si chiama così lui è padre Pio ci incontriamo buongiorno sono Luisa buongiorno cara sono Pio e ogni tanto lo saluto e vado a trovare sentite che è finto sentite che è finto mi appare Dio mi sveglio l'altro giorno e c'è un angelo sul mio letto che mi fa ciao e dico chi sei e lui dice questa è la mamma della Luisa e io chi sei sono un angelo come ti chiami Giorgio ecco ho visto un angelo nella concezione europea questa è una visione commovente poetica se esci fuori da questo globo presuntosissimo che è l'Europa ottuso trevilmente ottuso che è l'Europa e ne puoi uscire in qualsiasi istante tu ti accorgi che questa è una limitazione insensata sia di quello che tu puoi scoprire nel di là sia di quello che puoi cominciare a scoprire già adesso qui il tuo al di qua diventa un territorio strettissimo in cui non ti va più di stare ma non perché ti vai ad andare in altri mondi ma perché il tuo rapporto con le cose cambia perché il tuo mondo di fatti è troppo stretto il tuo al di qua diventa il mondo di fatti a cui eri abituato tra parentesi chi ci guadagna fate un'ipotesi cioè perché l'Occidente a un certo punto perché l'Occidente a un certo punto alla fine del Settecento gli spagnoli ce n'erano arrivati un po' prima da questo punto di vista il meccanismo che sto per descrivervi gli spagnoli ce n'erano già arrivati nel 1500 quando arrivavano in America no? ecco poi ce n'erano arrivati noi tutti noi europei perché secondo voi a un certo punto all'inizio del 1800 l'Europa diventa così ottusa che è che ci guadagna? pensateci ve lo suggerisco io intorno al 1750 comincia una nuova civiltà europea la civiltà europea precedente era cominciata alla fine dell'impero romano ed era stata formata dall'incontro tra barbari e romani e si era durata a lungo sempre litigando barbari contro romani fino a Lutero che si arrabbiava perché con Roma e tutto il resto c'è qualche ultimo eco nell'attuale Lega Nord nel 1750 comincia una civiltà nuova in un periodo più o meno quando l'Inneo fa la classificazione guerra dei sette ai sette anni una civiltà in cui c'è il confine dell'Europa non è più dal confine polacco alla Spagna ma di colpo diventa dagli Stati Uniti che stavano cominciando a formare nuovissimi che nessuno se l'aspettava chi sono questi come mai stanno meglio di noi perché hanno una Costituzione che dice ogni uomo è stato creato uguale e ognuno è libero di cercarsi la sua felicità come vuole purché non interrompa la ricerca degli altri è fantascienza sono sbarcati da Marte questi chi sono e dall'altra parte i russi ricchi si erano mai visti fino al 1700 ricchissimi potentissimi agguerritissimi con un impero immenso con l'aria di volersi mangiare tutto già allora e di colpo cambia l'Occidente l'Occidente si forma questa nuova civiltà che è quella attuale che è una delle più cattive con l'individuo che siano mai esistite cioè la civiltà occidentale tutte le civiltà ce l'hanno a morte con l'individuo perché le civiltà sono fatte di gruppi la minima molecola di una civiltà è la coppia poi c'è la famiglia il partito la razza il paese lo stato la regione eccetera è un modo di essere noi e nel noi chi dà fastidio sei tu tu sei quello superfluo solo che così cattiva come la nostra non c'è mai stata pensate la nostra civiltà comincia con la rivoluzione francese tutto quello che io gli tagliano la testa solo la massa continua continua con Napoleone che è una specie di turaccio lo spinto in alto da una marea di francesi scatenati continua con la restaurazione con il risorgimento con il comunismo con il fascismo con il nazismo tutte cose tutti questi ismi o zioni rivoluzioni ismi che odiano il singolo individuo e lo schiacciano naturalmente per non farvelo sembrare vi dicono che è la civiltà più individualista del mondo l'ha fatto vero basta vedere che cioè normale maniera di avere successo in questo periodo qual è? è come noi lui ha successo perché è come noi pensate non era così prima lui ha successo nel 1600 perché è eccezionale lui ha successo nel 1300 perché è un eroe lui ha successo perché è un profeta nella civiltà occidentale lui ha successo perché è tale quale a noi capisci? e io voglio essere come tutti quanti noi dimentico quel comandamento terribile lo traduco anche male nella Bibbia dice non desiderare quello che desiderano gli altri e lo traduco in modo incomprensibile non desiderare la roba ad altri che non si capisce cosa proibisca perché tutto è di qualcun altro ecco pensate la differenza i comandamenti si rivolgono a un tu o si rivolgono a un voi a un tu non dice non ucciderete dice non ucciderai il tu era importantissimo e il 600 era duro il 500 era duro c'erano gli erettici che ne erivano bruciati ma prima parlavano il simbolo della fine della civiltà precedente era il rogo il simbolo nostro sapete qual è cioè la morte più occidentale che esista dalla fine del 700 a oggi è il suicidio non ci sono mai stati così tanti suicidi come dal 1760 in poi dal giovane Werther a Anna Karenina a Madame Bovary a Maddio Modigliani cioè il suicidio è diventato normale prima era rarissimo rarissimo perché il suicidio? perché sono schiacciato non c'è posto per me non voglio essere un noi e per essere io muoio noi siamo dentro in questa situazione se tu cominci a pensare diversamente dall'occidente ad accorgerti che dentro di te c'è questa enorme libertà di cambiare il mondo e di scoprire la realtà seguite il mio linguaggio di cambiare il mondo e di scoprire la realtà tu stai non soltanto facendo come la Luisa prima maniera cerchi e consolazioni tu stai cambiando la tua cultura per arrivare a questa idea della metafisica dell'aldilà ci vuole un io fortissimo in tutte le civiltà si arriva alla metafisica solo quando il tuo io è in eccesso di forza quando non quando il tuo io è debole nella nostra ci si arriva in forma consolatoria quando il tuo io è debole pensa alla differenza e la scelta a chi a chi tocca ma a te è sufficiente che tu ti accorgi dell'immensità che hai dentro come faccio niente da aggiungere a quello che hai solo da togliere c'è un esercizio che faccio fare tre volte penso questa volta si arrabbieranno invece è andata bene fino adesso è un esercizio di striptease naturalmente intellettuale che si fa così abbiamo detto nome cognome professione ruolo familiare e storia passata tutte queste cose se tu sei occidentale tu le sei tu le sei io sono la Luisa Franceschi se tu ne vuoi venire fuori non occorrono non occorre a vasca o altro è sufficiente che tu provi è sufficiente che provi a immaginarlo perché è talmente bello e contagioso la scarica di dopamina è talmente immediata che poi ci torni su in continuazione perché è proprio bello pensarlo ti manca il fiato allora tu prova a pensare tu sei o hai il tuo nome di battesimo guarda che se fai questa cosa poi un discorso su padre Pio che è apparso qua e là a te non ti comincio più dici ma ancora state a parlare di sta roba qua padre Pio non è apparso cioè prima c'era e poi non c'era ma non è così il tempo tu sei o hai il tuo nome di battesimo tu rispondi io lo sono è certo fin da piccolo ti hanno detto chi sei bambina sono la Luisa chi è sono io io sono Igor pensate in questo modo ti incastri ma è vero questo è falso il nome te l'hanno dato quindi qualcosa che hai e non dice niente di te il tuo nome niente dice molto di quelli che te l'hanno dato ti ricordi quando te l'hanno dato eri molto distratto in quel momento eri nato da circa 7-8 minuti hai cercato quando hai capito che voleva darti il nome di uno zio suicida hai cercato di protestare usando però un livello di comunicazione troppo alto per gli adulti europei cioè gliel'hai detto con la telepatia che il tuo nome doveva essere nuvola d'argento con fuoco di fiamma e qualcosa del genere e loro hanno detto no si chiamerà Enzo tipo e tu vabbè però questo Enzo parla di loro non parla di te ecco adesso tu prova a immaginarti con una vividezza un pochino di vividezza cosa vuol dire il fatto che tu non sei più il tuo nome non lo perdi semplicemente ti accorgi che ce l'hai come noi abbiamo il nostro io normale il nostro io percettuale quello inserito nel cranio chi sei dopo se tu non sei più il Gianmarco chi sei dopo sentite che si allarga subito tutto il primo che l'ha capito che ha dato l'esempio è stato Mero naturalmente quando intrappola di fronte a una pre-immagine dell'Occidente simile alla televisione Polifemo con un occhio solo che era proprio la profezia dell'Occidente che chiuso in una grotta Ulisse ha l'intuizione di dire io mi chiamo io sono nessuno quindi io non sono prevedibile tu sei Polifemo che vuol dire quello che parla tanto di sé tu sei Polifemo e mi hai fregato perché mi hai chiuso qui dentro finché io sono Ulisse io sono perduto ma io sono nessuno e io ti ammazzerò perché non sono prevedibile essendo una persona che nemmeno io conosco è un bello nemmeno io conosco perché se tu non hai più nome tu non ti conosci non sai chi sei quindi sei e basta e non potendo sapere chi sei non è che non hai limiti ma sei all'inizio sei appena nato a te altro che uscita dalla pubertà cognome tu sei o hai il tuo cognome adesso hai capito il gioco direi ai ai e fino a un certo punto perché ai ai il tuo cognome ha deciso tante cose nella tua vita tante scelte consapevolmente inconsapevolmente in gran parte magari tu non sei il tuo cognome però lo sei stato tanto ecco adesso tu pensi io ho il mio cognome cioè tu hai una serie di rapporti con la mia famiglia nome e cognome sono due cose che io ho ma che non dicono niente di me come faccio io a sapere cosa dove sono quando dormo cosa di cui non potrò mai essere consapevole come faccio io a saperlo e il fatto è che tu quella parte lì grande ripeto non la saprai mai la puoi solo avvicinare la puoi solo cominciare a essere sempre di più e non puoi esserla finché sei inserito in quella cinque quelle cinque condizioni una più stretta dell'altra nella quale si forma il tuo cosiddetto al di là che non è più tuo a questo punto è l'al di là del tuo io presunto di Luisa ma non di me cioè di Igor voglio dire di Igor Sibaldi è solo al di là ma non è il mio lui ce l'ha lui ha la sua macchina da presa a cui vede ma io vedo senza la sua macchina da presa io sto cominciando a spaziare in un luogo che non so più se è al di là o al di qua sapete a questo punto perché quello che vedo io se mi libero da Igor Sibaldi è molto più di quello che vede lui per me io vedo qua un sacco di roba che lui non vede perché è limitato anche solo a quei due punti lì quei due punti lì esercitano un effetto molto diciamo subliminale pensate il prossimo tu sei o hai la tua professione tutti quelli che dicano io sono un avvocato io sono io sono un tramviere io sono un poliziotto io sono un giudice io sono un disoccupato guardate il verbo sono loro non se ne accorgono ma gli sta stringendo un cappio intorno al collo che li blocca in tutto quel verbo lì potrebbero non essere bloccati se rifiutassero anche la definizione attraverso la professione io sto per me la mia professione è quello che la mia società mi ha messo a disposizione per esserle utile ma non sono un avvocato ma scherziamo poi il mio ruolo familiare qui tanta gente si arrabbierebbe all'inizio stirne parlare perché una che dice io sono la mamma e aggiunge e questo non si discute di mamma ce n'è una sola e sono io tante canzoni lo dicono tanti libri tra le canzoni c'è anche balocchi e profumi ma di quella lasciamo stare allora io sono la mamma io sono la papà io sono il figlio ecco non è vero neanche questo secondo me ci guadagna dire che tu hai questo ruolo piuttosto che esserlo prima di tutto perché se tu dici io sono la mamma puoi anche essere una grandissima stronza però sei la mamma lo stesso invece dice io ho il compito di fare la mamma allora dipende da come lo faccio cioè io sono io ho questo compito nella misura in cui lo so svolgere invece io sono la mamma che hai la certezza di rispondere a quest'ansia del chi sono avete capito tra l'altro come mai la civiltà occidentale ci guadagna con questa cosa qui schiacciamento dell'individuo no compressione dell'individuo naturalmente gli stati occidentali che dovevano conquistarsi il mondo non potevano perdere tempo con le sottigliezze avevano bisogno di soldati di gente da far rispettare per cui meno capisci meno il tuo io è forte meno il tuo io è forte e più obbedisci a me quindi a me serve una truppa comoda devo distruggere i sudamericani devo distruggere gli africani devo ammazzare gli indiani a tutto spiano devo spianare il pacifico mi serve che tu non pensi mi serve che il tuo io sia niente che sia niente per questo ti distruggo la tua metafisica ti distruggo l'accesso e ti do come metafisica consolazioni che ti fanno sembrare che là sia come qua attenzione guardando se lo guardi a questa distanza c'è una cosa che ti colpirà tantissimo visto a questa distanza prendendo la distanza dall'elemento occidentale c'è una cosa che ti colpirà tantissimo nella dimensione metafisica come viene presentata di solito in occidente ed è il kitsch il kitsch il cattivo gusto la banalità pensate sti angeli con la permanente col vestitino stirato chi glielo stira la madonna che compare con quelle mise azzurrine e celesti benestante mica ti compare mai come una povera disgraziata è sempre uscita dal parrucchiere anche lei è chiaro che prima di entrare qualcuno l'ha messo a posto ci vado bene così entra dopodiché dici è andato bene anche stavolta è chiaro che fa questo effetto e cosa vedi qua ricchi il re dio re il re del cielo il trono non puoi non sentire l'inganno perché se vedi il trono lì poi e sai che è così nell'aldilà allora sei abituato a sopportarlo anche qui se il tuo io fosse molto forte se come dice Dante io te sopra te corone mitrio se tu fossi papa eredite stesso sai che del trono qui non te ne frega proprio niente di un capo però se lo vedi lì dio maschio soprattutto dio maschio e anziano ma perché ma chi l'ha detto è qualcosa che riproduce la cultura dell'aldiqua perché te la possono passare perché ti bevi tutto perché è talmente vuoto il tuo cielo e da qui come si esce ma tu intanto cominci a staccarti da quello che ci hai incastrato diciamo della professione diciamo del ruolo familiare non avete idea come cambia il rapporto con i vostri familiari quando gli togliete il ruolo non so io consiglio di chiedere alla madre se ce l'avete ancora portata chiedetele come è stato il suo primo bacio vedrete bene Billy altro che apparizione della Madonna perché innanzitutto nessuna donna resiste a questa domanda cioè anche se lo chiedi alla Merkel te lo dice si ferma scusate quando te lo racconta tu vedi ma guarda che lì hai veramente una visione perché tutto un tratto una persona che per te era una funzione chiamata madre tutto un tratto sparisce viene fuori una persona che tu non conoscevi che è una donna che tu avevi mai visto perché a te di lei ti serviva che svolgesse la madre per evitare che tu andassi allo psicanalista quindi se lei non faceva la madre bene tu andavi dall'analista quindi pretendevi questo da lei 24 ore al giorno fino a che sarebbe schiantata tardi naturalmente 135 anche lei ci arrivano però non l'avresti mai vista e lei non l'avrebbe mai visto te perché quando lei smette di essere madre ai tuoi occhi tu smetti di essere figlia ai suoi se ce la fai se riesci solo che a quel punto di nuovo non sai più chi sei perché via via con questo striptease stai perdendo tutta una serie di definizioni sei nella totale incertezza che in realtà se lo rivolti sei in una totale libertà sei nel vuoto di te certo ma il vuoto è spazioso il vuoto è una parola che inquieta spazioso è una parola che piace molto puoi estenderti nel vuoto mentre prima è rincastrato in un essere e alla fine si arriva al punto peggiore per tantissimi specialmente per quelli che stanno facendo una terapia psicoanalitica cioè tu sei o hai la tua storia passata qualsiasi persona legata alla psicologia ti direbbe tu sei la tua storia passata dimmi chi sei raccontami da questo posso capire chi sei qualsiasi persona è di un certo livello naturalmente ma un certo livello più alto no ecco e quando una persona è molto interessata a te ti chiede ma tu chi sei raccontami tu gli racconti quello che hai fatto finora non vai dello psicoanalista per dirgli guardi io tra un anno vorrei essere non gli interessa mi dica la sua infanzia ti fa pensare che tu sia la tua storia passata cioè che il passato sia più forte di te a questo punto tu prova con un semplicissimo stacca il sei disattiva la presa del sei e metteci dentro la presa dell'hai tu hai la tua storia passata tu non sai chi sei da nessun punto di vista la tua storia passata non dice abbastanza di te la risposta giusta da questo punto di vista la vecchia risposta antica era quella dell'esodo quando a Dio viene chiesto da Mosè il suo nome Dio risponde mio nome io sarò quello che sarò dice questo in ebraico non si può intendere in altro modo io sarò quello che sarò bellissima come risposta se tu sei sua immagine e somiglianza pensa cosa vuol dire naturalmente è tradotto sbagliato esodo 3 23 lo trovate sulla vostra bibbia sarà scritto per il mio nome io sono quello che sono traduzione notoriamente errata di tutte le lingue europee di un passo che in ebraico è chiarissimo perché Europa tu sei quello che sei e l'europeo aggiunge per gli altri in base a quello che gli altri ti hanno detto in questo modo il tuo al di là è fittizio come te tu ci puoi credere benissimo ma nel crederci non ti accorgi che stai credendo con enorme con una fatica enormemente maggiore nel tuo al di qua il tuo al di qua è prodotto di fede molto più di quanto lo sia il tuo al di là il fatto che tu creda che tu sia nome cognome eccetera è un atto di fede non è una constatazione perché mentre lo facevate se avete usato un po' di immaginazione nel farlo vi siete accorti che non vi siete mai sentiti così autentici come in quello striptease lì e il sentire che perdi nome cognome eccetera non perdi niente aumenti trovi sempre che tu non sia profondamente occidentale nel qual caso è una scelta di vita e diventa un destino quali sono poi le conseguenze pratiche di questo allora le percezioni aumentano le percezioni aumentano diminuisce la tua fiducia nel linguaggio perché perché a un certo punto ti accorgi che quello che ha nome cognome professione storia passata e ruolo familiare è il tuo io però già questa espressione qua il tuo io ti pone qualche grosso problema io posso dire questa è la mia penna stilografica è la penna stilografica di io io posso dire questa è la mia bicicletta se non me l'han fregata perché l'ho chiusa ma questa è la mia bicicletta questa è la bicicletta di io ma se dico questo è il mio io di chi è di chi è io non puoi dire di io è già lui e tu guardi quanti pronomi persone ne abbiamo io tu lui lei noi voi cioè noi voi loro sei non ci sono io la mia lingua non mi include uno dice beh Jung lo chiamava al sé Jung era svizzero Jung è uno psichiatra svizzero sapete che qui c'è un grosso problema linguistico allora in inglese self non vuol dire parte superiore di te non è che self service tu entri hai uno shock e c'è qualcuno non è self service vuol dire tu il ruolo responsabile che tu hai nella sua età fa da solo in quel negozio lì self in inglese è l'immagine che tu dai di te agli altri come va il tuo self così così è normale chiedere in inglese il mio self è un po' troppo debole in tedesco non c'è questo è quando Jung pensava al selbst pensava alla svizzera cioè alla maniera svizzera cioè se c'è qualcosa in me di trascendente di più grande è quello che il mio io può capire riflettendo su di sé sé è un pronome riflessivo esprime il tentativo di tenere sotto controllo questa grandezza cioè questo è io questo è sé dal punto di vista grammaticale sé è più piccolo il sé è quello che l'io sa di sé quindi io contiene sé Jung poi si arrabatta dice no il sé contiene l'io però si perde a quel punto coscio collettivo tutte queste cose e non c'è non c'è il pronome non c'è il pronome non c'è niente che ti impedisca non c'è niente che ti permetta di prenderti e dire ecco quello lì sono io da grande di fuori e lì capisci quel comandamento particolare sull'aldilà antico che c'è per ebrei e arabi dice non chiamarlo in nessun modo non farti immagine o figura o scultura di quello che vedi perché quello che tu hai come immagine e cultura tu è uscito da uno stato autoritario come l'Egitto sicuramente non è quello che intendi a cominciare da te domanda cioè il comandamento dice di non nominare il nome di Dio in vano perché non si può conoscere Dio salta fuori che non posso dire io neanch'io perché se dico io in vano siccome quello che sono davvero non è io sì allora la conseguenza che posso trarre non vorrei che fosse blasfema no no fai pure di pure allora io e Dio quelli e non si può dire io quello lì quel tipo lì che c'è quando io tolgo io quello lì che rapporti ha col boss di tutto l'aldilà no cioè quando noi intendiamo eh lì scopritelo pensate la Luisa a questo punto la Luisa che prima aveva la preoccupazione di quel sogno lì che prima aveva la preoccupazione di non reggere più le due storie o al fatto di avere 38 anni e non aver ancora combinato granché nel senso che lei pensava che non ha ancora preso l'Oscar praticamente no a 38 anni a questo punto lei è la stessa di prima ha gli stessi problemi che lei aveva prima se lei apre il suo guardaroba non c'è neanche un abito che le possa piacere quando ho cominciato a pensare in questo modo figurati se non le piacciono i suoi vestiti se ha ancora gli stessi problemi di prima di porsi questa questione la Luisa non sa più chi è quindi è ma questo vuol dire che quando non so leggo di padre Pio che è apparso quando leggo delle reincarnazioni allora non devo non devo crederci alt non ho detto sicuramente questo ho detto quel termine simbolico simbolico se quello che si dice in questo tipo di descrizione dell'aldilà è vero non è vero nel modo in cui lo si dice è solo il linguaggio dell'io piccolo che annaspa nell'aldilà figurati nell'aldilà quindi tutto può essere decifrato tutto quanto quindi più so e più posso scoprire non hai scelta chi mi guida ma guarda nessuno cioè con tutta l'immensità che hai dentro il presidente del maggiori Giovanni che è quello meno cristiano di tutti più gnostico di tutti più femminile e più audace dal punto di vista psicologico tutte le volte che Gesù dice io è un gergo del tempo lui intendeva con io con io intendeva quell'altra parte superiore e la frase io sono la via la verità e la vita va letto dunque quel io lì è quello che in te vive davvero e quello non è non è la Luisa non è l'io piccolo che vive quello è un problemino cioè quello lì è quello che vive davvero quello che nella tua vita agisce quello è la via che tu stai scoprendo ma quello è anche la verità cioè il criterio di verità c'è se convince quella sensazione che tu puoi imparare ad avere solo essendola grazie 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 a tutti